Ok che tutti i miei video sono fatti a cazzo di carne ma vi assicuro che questa volta è letteralmente colpa di youtube L'algoritmo di youtube sta impazzendo, sta esplodendo, non che fosse già esploso eh Perché l'algoritmo di youtube non è mai funzionato bene Ah e fosse solo l'algoritmo che non funzionasse, sono anche le analitiche che non funzionano Perché l'altro giorno da 100 visual guardo su youtube studio, 0 visual Poi dopo 5 minuti si sbagga perché youtube, lo sapete, è fatto bene Ma ora non voglio stare qua a rompervi la palle con quest'algoritmo Allora l'algoritmo, ve lo spiego in poche parole Avete presente quei video così fatti a cazzo di cane, 10 anni fa che vi compaiono in home Tipo ci sono dei ragazzi che lanciano sedie, spaccano cose Ecco quello là è l'algoritmo, vi mette robe di 10 anni fa che non hanno un senso Oppure ci sono anche persone che rompono l'algoritmo youtube Ci sono tantissimi canali che si chiamano faccio 20 video al giorno finché non 20 Finché non divento famoso Oppure divento famoso senza fare niente Ecco questi qua sono i canali che vengono favoriti dall'algoritmo di youtube Ora io dico no, ma cos'ho io che loro non hanno Cioè no, cosa io non ho che loro hanno Non so sarò io il problema ma ora noi proveremo a fare una cosa Ecco non funzionerà mai nella vita eh Però noi ci proviamo Diremo per ben 50 volte la parola algoritmo Boh casomai si commuove, non lo so Sì, capito Algoritmo, 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 algoritmo Algoritmo, algoritmo e algoritmo Minchia comunque io so proprio cosa significa il tempo Questi qua penso che siano stati due minuti più sprecati della mia vita Amici scusate per avervi scassato le palle per 5 minuti con questo algoritmo Ma questo video era di vitale importanza per la crescita dei babbuini in Africa Non dico niente, non dico niente Se volete chiamate il 118 perché non è normale Grazie a tutti